bello di ragazze e benvenuto a questo primo video di Vipra Nera io parlerò di animali farò documentari poi farò il cattureroio e farò vedere i miei allevamenti farò vedere i miei animali e tutto volevo dire che mi metterò su una pagina Instagram che si chiama Vipra Nera Raffi tutto attaccato piccolo è un'altra cosa che volevo dire perché io farò delle cose che se rispondete alle domande giuste sugli animali vi dirò il vostro nome sul canale mio che ha vinto e se rispondete più di 4 volte bene ci metteremo in contatto con una webcam ciao, ci vediamo un po' sui non posso venire perché ciao, ci vediamo un po' sui